Ciao a tutti, di nuovo ben ritrovati con quello che è l'ultimo video del ciclo di lezioni che ho fatto sulla fotografia. Dopo aver parlato dell'evoluzione storica della fotografia, della tecnica della macchina fotografica, con un approfondimento vedendo alcuni tipi di macchine reali, e l'ultimo video di aver parlato della composizione artistica dell'immagine fotografica, concludiamo con un esempio di fotografi che sono considerati a tutti gli effetti degli artisti, tre fotografi, ma parto da un presupposto che ho già fatto durante il primo video mentre stavo mostrando il daguerotipo. C'è un momento in cui la fotografia comincia a entrare in concorrenza in un certo senso con la pittura, negli anni 60 del XIX secolo, e questo momento io lo chiamo sempre rivoluzionario, c'è il momento della rivoluzione in cui sia da una parte che dall'altra era sia per la fotografia ma soprattutto per la pittura, comincia una nuova fase storica. Cosa possono pensare i pittori di quel periodo dell'Ottocento quando si ritrovano ad avere la fotografia come concorrenza, quando vedono che i ritratti vengono fatti con una macchina piuttosto che dai pittori? Ovviamente c'è chi reagisce in maniera disperata dicendo i fotografi ci rubano il lavoro, ma ci sono gli altri, quelli più aperti, i giovani, che vedono finalmente in questa una possibilità. Loro dicono finalmente siamo liberi di disegnare quello che vogliamo. Perché? Perché se pensiamo per secoli, anzi per millenni, fin dai tempi delle pitture rupestri, l'obbligo morale del pittore è sempre stato quello di imitare la realtà. Un pittore veniva definito bravo nel momento in cui sapeva imitare ciò che vedeva, ciò che c'era. Tanto più era bravo a realizzare per esempio le tredimensioni e quindi abbiamo avuto i Michelangelo, i Raffaello, i Leonardo, i Caravaggio. In questo momento la fotografia toglie questo compito morale ai pittori e i pittori possono quindi spingersi su una strada di libertà espressiva. Da quel momento il pittore bravo sarà il pittore creativo, il pittore che inventa modi nuovi di esprimersi. Ci sarà l'impressionismo, l'espressionismo, l'arte poi a strada del Novecento. Per questo io definisco rivoluzionario questo processo della pittura dovuto alla nascita della fotografia e nel frattempo anche tra i fotografi vi sono delle personalità che verranno poi considerate al pari degli artisti pittori. Io pongo tre casi, tre importanti artisti fotografi, Felix Nadar su cui farò un accenno più rapido, Tina Modotti e Robert Capa. Felix Nadar è importante perché lo citiamo anche quando parliamo di pittura espressionista. Lui era un amico dei pittori, un amico degli impressionisti, tanto che lui ospita nel suo studio le mostre degli impressionisti rifiutate dalle gallerie d'arte ufficiali. Lui può essere considerato il primo fotografo di fama specializzato in ritratti, come erano specializzati molti dei pittori di quella fase storica, e divenne molto di moda per le persone dell'epoca farsi fare un ritratto da Nadar. Lavorava in studio costruendo spesso delle scenografie nelle quali scattare le foto. Immaginiamo che lui ad un certo punto acquista un intero palazzo a Parigi, la foto la possiamo trovare in rete, con queste finestre vetrate appunto perché la luce era molto importante, dato che lui scattava esclusivamente creando delle scene all'interno del suo studio. Qua vediamo due immagini, due ritratti. A sinistra è un ritratto più tradizionale, una persona frontale, ritratta frontalmente, e questo è proprio un pittore del gruppo degli impressionisti. Invece a destra vediamo un ritratto un pochino più creativo, questa ragazza posta un po' di tre quarti era all'epoca una famosa attrice teatrale, Sara Bertrand. Poi io faccio sempre vedere questi due esempi. Questa protagonista è un'altra persona famosa e mi piace far vedere queste foto e non altre per collegarla questa persona un po' al nostro territorio di Udine del Friuli, perché questo signore con la barba è un signore di origini friulane, benché lui sia nato a Roma. La famiglia era una famiglia nobiliare friulana. Lui aveva il desiderio di diventare esploratore, di viaggiare, quindi a un certo punto si avuola nella marina francese e come ufficiale di marina francese lui esplora quello che poi diventerà il Congo francese in contemporanea all'esplorazione del Congo belga, solo che mentre il re del Belgio aveva soldato un mercenario sostanzialmente americano che stava conquistando quello che poi diventava il Congo belga, lo Zaire, in maniera sanguinosa, questo signore con la barba invece avanzava in quello che diventerà il Congo francese stipulando accordi commerciali e con atti pacifici, tanto che quando poi porterà in Francia la conquista di questo territorio, lui sarà osannato come un eroe, farà tre viaggi in Congo sostanzialmente alla fine del secondo viaggio quando torna a Parigi ed è ormai famosissimo, lo mandano da Nadar a fare una serie di foto e vediamo Nadar come costruisce queste immagini che poi sarebbero state probabilmente pubblicate sui giornali. Nella prima lo fa vestire come fosse un beduino, un esploratore del deserto e alle sue spalle vediamo un pannello dipinto appunto che vi chiama al deserto e delle rocce finte fatte probabilmente in cartapesta. Nell'altra invece sullo stesso sfondo lo vediamo con la sua uniforme da ufficiale di marina e con due ragazzi del Congo vestiti da marinai, uno di essi addirittura gli tiene in maniera quasi fraterna una mano sulla gamba a far capire anche il rapporto amichevole e familiare che lui aveva instaurato con la popolazione locale. Il Congo francese, l'ex Congo francese sarà poi l'unico caso di stato africano che raggiunta l'indipendenza non modificherà il nome della sua capitale perché la capitale Brazzaville prende il nome da lui Pietro Savornian di Brazzà, esploratore di origine friulana naturalizzato francese e non solo ma i congolesi costruivano poi un mausoleo e chiesero e ottennero che il corpo di questo esploratore fosse sepolto da loro. Restando collegati al tema del friuli il secondo artista fotografo che tratto è una lei di Tinamodotti, friulana d'origine perché nasce a Udine però in friuli ci sta molto poco in quanto in quegli anni nasce nel 1896, in quegli anni il friuli è terra di povertà, terra di emigrazione e all'inizio la sua famiglia si sposterà in Austria dove lei tratta alle scuole elementari, poi rientra a Udine, sembra che a Udine avesse anche uno zio Pietro Omodotti che avesse uno studio di fotografia e può essere che lei già a Udine avesse imparato qualcosa dell'arte fotografica, ma il salto lo fa verso i 17 anni quando segue il padre emigrato negli Stati Uniti a San Francisco. Se noi pensiamo a San Francisco, a Los Angeles anche oggi ci viene in mente il cinema, ci viene in mente Hollywood e infatti quella volta stava nascendo il cinema e lei arrivata a San Francisco comincia a lavorare, però frequenta dei corsi di recitazione, diventa modella, diventa attrice, recita nei film, che quella volta erano film muti, tre film di cui di uno sostanzialmente noi abbiamo la pellicola arrivata fino a noi oggi. Si sposa a un certo punto con un pittore messicano che si sposterà a Città del Messico dove poi morirà di malattia. Lei per seguirlo si sposta anche a Città del Messico e da lì comincia una vicenda molto articolata, la sua è una vita molto complessa, veramente degna di un film. Resterà a quel punto a Città del Messico che diventerà la sua casa e dove poi è sepolta. muore lì nel 1942. Possiamo anche dire che in Centro America, in America, lei è famosissima, qua da noi è stata riscoperta negli ultimi vent'anni. Lei a un certo punto deciderà di dedicarsi alla fotografia e solo per un periodo della sua vita farà la fotografa. Subito dopo, negli ultimi dieci anni, deciderà di dedicarsi esclusivamente all'attivismo politico. Infatti lei a un certo punto entra in un giro di socialismo e del partito comunista, quindi di queste frange politiche, pensiamo a quello che è il Messico in quegli anni, del primo del Novecento, la rivoluzione, le condizioni dei contadini e della popolazione indigena e lei inizialmente sceglie la fotografia come strumento di denuncia sociale, un po' come facevano i pittori realisti a metà Ottocento. Quindi lei decide di fare fotografia perché pensa e crede che poi le sue foto nelle mostre o girando il mondo possono essere una testimonianza di queste condizioni difficili della popolazione indigena locale. Quindi potremmo dire che principalmente le sue foto sono foto a tema sociale, ma non solo come vedremo. Ecco alcuni scatti che ritraggono Tina Modotti. Questa è una foto che l'è stata fatta e che lei probabilmente ha spedito in una lettera a casa, infatti si vede una dedica. Questa è lei che recita, quindi con delle pose di mimica facciale molto evidenti in quanto appunto cinema muto era molto importante, quindi la mimica del corpo. E questo è un fotogramma tratto da La pelle della tigre, l'unico suo film che si è arrivato integro fino a noi. Queste foto sono state scattate da questo signore che si chiamava Edward Weston, un noto fotografo statunitense che a un certo punto diventa l'amante di Tina Modotti che la segue a Città del Messico e sarà lui che le insegnerà tutte le principali leggi e regole della fotografia. A seguito di questa conoscenza lei comincerà a fare appunto la fotografa e come dicevo lei principalmente lavora sul tema della socialità, il foto di tema sociale. Andiamo a vederle. Questa prima immagine ci mostra una donna che sta trasportando una pesante rotere d'acqua. Il bianco e nero risalta la lucidità dell'acqua che esce e che sporca, che bagna il materiale di questo vaso. Inoltre vediamo che il primissimo piano mette fuori fuoco lo sfondo. Questa è una delle sue foto più famose. Durante una manifestazione politica, la bandiera è rossa, lei vede questa donna indigena che sta camminando con questa bandiera e la fa mettere in posa in questa posizione. Lei è donna, ha avuto molti fidanzati, non avrà mai figli, però in quanto donna sicuramente sarà stata sensibile al tema del ruolo femminile della maternità. Lei difficilmente fotografa i visi. Qua vediamo un bambino, un contadino in primo piano, con il tipico cappello messicano al sombrero, e a lato una madre incinta che tiene in braccio il suo bambino. Qua non si vede uno i visi. Sicuramente questa foto voleva essere una riflessione sul tema della maternità, del ruolo della donna, in quelle particolari condizioni sociali. Qua, da una finestra ad una terrazza, ha fotografato uno sciopero, una manifestazione di contadini. Di nuovo vediamo il sombrero, il tipico cappello contadino messicano, in questa che diventa quasi un pattern, quasi il ripetersi di una matrice, di un modello che è il sombrero. Sebbene sia una foto tecnicamente non perfetta, perché se notiamo è leggermente mossa e fuori fuoco, è quasi quasi proprio questo, questo difetto tecnico che la rende così accattivante e interessante. Dicevamo, lei tendenzialmente non fotografa i visi. Si concentra su altri dettagli. Qua vediamo le mani. Le mani di chi, secondo voi? Questo è un burattinaio. Vediamo questo legno a croce con i fili, ma lei del burattinaio fotografa appunto le mani, non il viso, non i burattini, e osserviamo come il bianco e nero sia capace di rendere la rugosità della pelle, il volume e i giochi di ombre. Noi dalle mani di una persona possiamo capire molte cose. Guardiamo infatti queste mani. Mani di un contadino. Anche qua. L'inquadratura al primo piano sulle mani e non sul viso può raccontarci emotivamente molto di più. E anche questa è una scelta creativa. Inquadrare le mani callose, sporche, appoggiate al manico di questa pala. Però dicevamo che Tino Modotti, sebbene il suo filone principale sia quello delle foto sociali, ha fatto anche molta fotografia sperimentale. Questo in pittura avrebbe chiamato natura morta. Un insieme di oggetti posti su una superficie o su un tavolo. E qua vediamo una falce, quindi un simbolo dei contadini, la cartuccera che richiama alle rivoluzioni, al periodo di fermento della società messicana e la chitarra che richiama sempre la cultura messicana di matrice ispanica molto legata alla musica e a quello strumento musicale in particolare. Altra foto richiamabile a una natura morta, qua con una forte luce laterale e anche con un gioco di chiaroscuri particolare, è un richiamo politico molto più diretto. La falce dei contadini incrociata col martello degli operai genera quindi il simbolo del comunismo, che era una corrente politica molto forte allora, c'era appena stata la rivoluzione dell'ottobre ed era una corrente politica che evidentemente Tinamodotti ritiene essere quella più adeguata per risolvere i problemi della società indigena e contadina del Messico. Il simbolo di questa ideologia politica è appoggiato appunto sopra il sombrero, il cappello tipico dei contadini messicani. Altre foto sperimentali, lei a un certo punto scatta queste immagini di fili elettrici, a voler quasi rappresentare un'immagine grafica e astratta, così come ottiene questa immagine di cui è quasi difficile capire nell'origine, perché vediamo dei bicchieri ma è come se questi bicchieri fossero sovrapposti uno all'altro o uno dentro l'altro. In una mostra mi dissero che era stata tenuta questa immagine con dei riflessi, quindi con dei bicchieri riflessi su un vetro. Secondo me è più probabile che invece Lamodotti abbia scattato due immagini sulla stessa pellicola. Infatti se noi scattiamo una foto e poi senza sostituire la pellicola riscattiamo un'altra foto, alla stampa le due foto saranno in trasparenza sovrapposte. A volte capitava per sbaglio anche, non volutamente, con le macchine a pellicola. In un certo senso è quello che noi potremmo ottenere oggi con un Photoshop, con un programma di fotoritocco, andando a sovrapporre in trasparenza due immagini. Anche questo ci fa capire la forza ideativa e creativa di alcune immagini di Tina Modotti. Un primo piano di un gruppo di rose, e anche qua vediamo come il bianco e nero risalti la percezione dei volumi e dei chiavi scuri. E andando a concludere, questo ragazzo, fotografato di profilo da Tina Modotti, si chiamava Junio Antonio Meglia. Un ragazzo cubano, uno studente cubano, è sullea città del Messico. La macchina da scrivere nell'angolo è la sua macchina, fotografata con una creativa inquadratura obliqua da Tina Modotti. Nell'immagine originale si riconoscono anche i testi di un articolo in spagnolo che stava scrivendo al ragazzo. Perché è così importante questa immagine? Perché questo ragazzo viene ucciso mentre è a passeggio a barcetto con Tina Modotti, infatti è stato uno dei suoi fidanzati. A Cuba oggi lui è ricordato come uno degli eroi della patria, in quanto allora era stato il fondatore del partito comunista cubano e questo logo che vediamo in basso a destra è il logo dell'attuale gioventù cubana di Cuba. I tre profili sono Che Guevara a destra, Camillo Sienfuegos al centro e proprio Giulio Antonio Mella a sinistra e il profilo di questo logo iconico ricavato a Cuba oggi è proprio derivante dal profilo della foto scattata da Tina Modotti, così come altre immagini che oggi usano Cuba di questo ragazzo ricavate dalle foto di Tina Modotti. Perché Tina Modotti ha avuto modo di incontrare moltissime persone famose, che oggi sono molto famose. Frida Kahlo, la pitrice, suo marito Diego Rivera, Trotsky nell'ambito della politica. E infatti lei a un certo punto deciderà di dedicarsi esclusivamente all'attività politica, verrà anche espulsa dal Messico, andrà a Mosca in Russia, sarà protagonista durante la guerra civile spagnola nel 36-37 e ritornata poi in Messico, morirà nel 42 ufficialmente di infarto dopo una cena, mentre tornava a casa in un taxi, però c'è chi vede in questa morte in particolare i segni di un attentato da parte di sicari stalinisti, ma sono ipotesi dei complottisti di cui non è dato sapere se fosse o meno così. Certamente Tina Modotti ha questo passaggio, come dicevo, nella guerra civile spagnola. Ma di lei è importante il periodo da fotografa, concludo la sua parte con questa immagine in cui la vediamo fotografata davanti a un'esposizione di sue immagini, quindi lei a un certo punto faceva le mostre esponendo le fotografie come fossero proprio dei dipinti e lei credeva, lei voleva che l'esposizione e la divulgazione delle sue immagini potesse essere una testimonianza, una denuncia sociale delle condizioni di questi contadini e di questi indigeni messicani. Ma dicevo appunto della guerra civile spagnola, questa ci collega al terzo e ultimo autore, a Robert Capa, di origine ungherese, più giovane della Modotti, può essere considerato il primo reporter di guerra nel senso moderno che diamo questo termine. Lui in realtà aveva un altro nome, Friedman, appunto un nome ungherese, si sposta in Germania, comincia a fare il fotografo, poi a causa del nazismo emigra negli Stati Uniti dove comincia appunto a fare il fotografo come professione. A un certo punto anche lui si trova come fotografo impegnato nella guerra civile spagnola, nello stesso periodo in cui era lì Tina Modotti e è in quel caso, in quell'occasione, che gli viene suggerito dalla sua compagna di assumere un nome d'arte che avesse un suono più adatto al pubblico anglofono e quindi lui decide di farsi chiamare Robert Capa. Lui in quel momento comincia a diventare famoso con la guerra civile spagnola e parteciperà a una serie di teatri di guerra scattando tutta una serie di foto molto famose. Muove nel 54 durante la prima guerra di Indocina, dopo aver passato diverse battaglie anche molto difficili della seconda guerra mondiale e anche lui oggi è un fotografo del quale si fanno mostre e i cui scatti vengono appesi alle pareti come fossero dei quadri. Ha avuto modo anche lui di conoscere dei personaggi noti, in particolare è Ming Wei e Picasso, di cui fa alcuni scatti molto noti. Vediamo le sue foto. Questo era lui, immortalato quindi da altre persone. Nell'immagine in basso lo si vede con una delle sue fotocamere, portatile, tra virgolette, per i canoni odierni. Grosso modo in ordine cronologico. Questa foto è scattata in Cina, uno dei suoi primi lavori da fotografo. Lui è in Cina dalla parte dei cinesi che stanno combattendo contro l'invasore giapponese. E qua c'è questa immagine molto significativa di questo soldato preso dal basso verso l'alto, con questo gioco di ombre sugli occhi. Ma è, come dicevo, nella guerra civile spagnola che lui fa i suoi primi scatti famosi. Intanto, come lavorava Capa? Cosa vuol dire essere un reporter? Vuol dire che lui aveva la sua macchina fotografica, scattava una serie di immagini, quando aveva accumulato un certo numero di pellicole, di rullini, li metteva in una busta e li spediva a New York, li spediva negli Stati Uniti, dove c'era qualcuno che li sviluppava e dopo lui aveva un redattore che sceglieva quali immagini usare e le pubblicava poi sulle riviste, in particolare sulla rivista Life. Quindi lui molto spesso, cioè intanto non sapeva come erano venute le foto, perché non è come oggi che scatti e puoi vederla subito. Lui faceva le fotografie e molto spesso ne vedeva i risultati mesi dopo, magari guardandoli direttamente dalle riviste. Anche nel caso di queste immagini, lui ha scoperto tempo dopo che l'immagine era diventata famosissima. Quindi, diciamo, la sua fama è anche merito del redattore, delle persone che in redazione, in studio, poi sceglievano le foto e le facevano pubblicare. Questa foto, scattata come dicevo in Spagna, è una delle sue immagini più famose. Lui dichiara di averla scattata quasi in maniera casuale. Era dentro una trincea, i soldati stavano saltando fuori per andare all'attacco. Lui alza la fotocamera sopra la testa e comincia a scattare delle immagini in direzione dei soldati che stanno uscendo. Una delle immagini, casualmente, riprende proprio il soldato, questo soldato, mentre viene colpito, nell'esatto istante in cui è colpito dalla pallotta, le sta cadendo, in questa posizione molto particolare. Un'altra foto fatta durante la guerra civile spagnola. La ragazza che vediamo dietro il soldato è Gerdatavo, quella che aveva la sua compagna. E' lei che gli suggerisce di cambiare il nome. E lei purtroppo morirà in occasione di questa guerra civile. Qua siamo a Londra, quindi lui scatta delle foto anche nelle retrovie, ma foto anche in città, lontano dai teatri di battaglia. Però a inizio della guerra, Londra è un teatro di battaglia. Infatti, la Luftwaffe, l'aviazione tedesca, bombarda pesantemente anche la città di Londra e questa foto, vedete, ritrae delle persone che guardano verso l'alto. Come mai? Molto probabile che fosse scattato un allarme aereo e loro stessero allungando il passo, vediamo questa signora con la bambina, che allunga il passo per raggiungere un rifugio antiaereo, guardando il cielo per vedere se stanno già arrivando gli aerei. Poi a un certo punto, lui, al seguito delle truppe americane, si fa paracadutare in Sicilia, dove gli alleati cominceranno la risalita della penisola italiana. Bisogna dire che lui non è un fotografo di propaganda, non è quei fotografi militari della Prima Guerra Mondiale che facevano le foto per conto dei militari e le cui foto venivano selezionate per propaganda. Lui è un civile che ha il consenso di seguire i militari, ma fa foto liberamente secondo la sua espressione. In questo caso, e questa è un'altra fotografia molto famosa, tanto che in questo punto in Sicilia c'è un cippo, un piccolo monumento che ricorda questo scatto, lui ha ritratto un ufficiale americano, Kino, vicino a un contadino siciliano molto piccolo, che con un bastone gli sta indicando un vicino villaggio dove si erano asserragliati i tedeschi. E questa foto, appunto, anche per la disparità di altezza dei due personaggi, è diventata molto famosa. Risalendo alla penisola italiana, passiamo a Napoli. Si vede questo gioco di contrasto, di controluce, dove c'è una luce molto forte sul muro. Questa persona che passa, che risulta per il controluce, in silhouette, cioè risulta completamente nera. E questa scritta in un inglese un po' poco preciso, che richiama alla fine della guerra imminente. Sempre dal teatro italiano, un soldato italiano, probabilmente un prigioniero, che sta camminando accanto a una ragazza con la bicicletta. E qua veniamo a una serie tra le più famose delle sue foto. Lui partecipa allo sbarco in Normandia. Se vedete la scena iniziale del film Salvate il soldato Ryan, potete avere in questi primi 15 minuti la percezione abbastanza fedele di cosa è stato quello sbarco. Una carnificina, un evento molto violento, a cui lui ha partecipato liberamente, quindi sbarcando insieme ai soldati e facendo diverse foto in condizioni estremamente disagevoli, sotto le mitagliettrici tedesche, nell'acqua. Quindi abbiamo degli scatti come questo, mossi, fuori fuoco, ma proprio per questo molto creativi, molto significativi. Quest'altro scatto un po' più nitido, che inquadra i mezzi della sbarco e i soldati che stanno strisciando sulla spiaggia, bisogna dire che a causa di un errore dell'operatore che in America ha sviluppato queste immagini, la maggioranza delle foto che lui scattò in Normandia sono andate perse, se ne sono salvate solo 11 in buone condizioni. Un'altra foto delle vetrovie, i soldati americani che riposano di fronte a quello che sembra il sagrato di una chiesa, con i calcinacci. Una casa crivellata dai colpi di pallottole, ma con tre ragazzine che sorridono, probabilmente perché ormai sono contente, perché arrivando agli americani, per loro la guerra è finita. Guardiamo anche la posizione delle persone in rapporto al discorso dei terzi della composizione fotografica che ho fatto nel precedente video. Robert Capa era amico di Picasso e in un'occasione venne invitato da quest'ultimo a passare dei giorni di vacanza al mare in Spagna. Robert si porta dietro la sua macchina fotografica e ne ricava questi scatti molto famosi del pittore con la compagna, il figlio ed altri amici. Qua invece ci troviamo, dopo la seconda guerra mondiale, in uno scatto fatto in Palestina. La scena possiamo considerarla anche abbastanza attuale, perché si tratta di un campo profughi, quindi di una tendopoli, in cui il primo piano cattura questa bambina che sta piangendo. Infine, concludiamo con questa che può essere considerata, se non l'ultima, una delle ultime foto di Capa. Infatti, questo scatto è stato fatto in Vietnam, durante la prima guerra d'Indocina, ovvero la guerra del Vietnam, non quella più famosa con gli americani, ma quella con i francesi, in quanto l'Indocina era un'ex colonia che i francesi volevano riconquistare dopo la seconda guerra mondiale. Capa stava seguendo l'affanteria, infatti vediamo i soldati di spalle, in lontananza dal carroarmato che li precede, e pare che abbia deciso di uscire dalla scia dei soldati, saliva su quella collinetta in parte per scattare una foto. È successo che ha messo il piede su una mina anti-uomo, saltando in aria, ci ha rimesso la vita. Era un rischio che aveva calcolato, non aveva mai avuto paura di questa eventualità, tanto che durante la seconda guerra mondiale abbiamo visto che aveva affrontato situazioni ben molte più pericolose. Capa è passato alla storia come il primo reporter di guerra e ci ha lasciato quindi questi scatti che ancora oggi girano il mondo in numerose mostre. Ecco, visto che le due schede biografiche che ho scritto erano volutamente carenti di alcune informazioni, per i miei studenti a casa io propongo questa ricerca che consiste nell'andare a completare appunto le informazioni biografiche dei due autori, Tina Modotti e Robert Kappa. Consiste quindi in una ricerca su internet di informazioni e poi in una ricerca per immagini da poter svolgere secondo le istruzioni che ho dato anche in un altro video dove spiego appunto come efficacemente fare una ricerca su internet basandosi sulle immagini. Quindi, completare la biografia di Tina Modotti con queste informazioni e completare quest'altra biografia di Kappa con queste informazioni. Compressiva poi di una ricerca di una decina delle loro foto con la scelta di una specifica foto per la Modotti e di una specifica foto per Kappa foto fatte da non foto con l'immagine della Modotti di Kappa sapendo anche spiegare la motivazione per cui queste foto sono piaciute. Bene, con questo ultimo video ho concluso la serie di lezioni didattiche sulla fotografia spero vi sia piaciuta sia stata chiara e vi abbia magari dato lo stimolo per approfondire ulteriormente questo argomento. Infatti le mie lezioni come sempre sono volutamente semplici e affrontano gli argomenti per elementi essenziali senza magari andare ad approfondire troppo certi concetti. Grazie ci sentiamo alla prossima grazie a tutti grazie a tutti